No al muro, sì al mare di Marotta e lo slogan utilizzato dal Comitato costituito per informare i cittadini sugli effetti che possono provocare l'eventuale realizzazione delle barriere fonoassorbenti lungo tutto il tratto ferroviario di Marotta. Il progetto, proposto da Rete Ferroviaria Italiana a livello nazionale, prevede la realizzazione delle barriere alte, circa 8-9 metri, con l'obiettivo di limitare il rumore del passaggio del treno lungo la tratta. Secondo il Comitato, la realizzazione del progetto di RFI altera il microclima con ricadute pesanti sull'inquinamento da polveri sottili e non elimina le forti vibrazioni che affliggono chi abita vicino alla linea ferroviaria. Abbiamo un esempio di quello che succederà a Marotta se vengono costruite queste barriere. Qui ci troviamo di fronte alla linea ferrata che è contornata da due barriere, una intorno ai 5 metri e un'altra che può arrivare a 9 metri. Quindi immaginate che cosa significa questa specie di tubo che passa attraverso tutto il paese. Lo distrugge dal punto di vista turistico, dal punto di vista paesaggistico. Io ricordo che c'è l'articolo 9 della Costituzione che dice che lo Stato deve garantire il paesaggio. Il Comitato per contrastare la realizzazione delle barriere ha mobilitato la popolazione con una raccolta di firme che vede aderire all'iniziativa un centinaio di esercizi commerciali che si sono resi disponibili a divenire punti di riferimento per la raccolta. Partendo dalle circa 200 tavole di disegni del progetto, un membro del Comitato invece è intervenuto lanciando un allarme riguardante la questione delle imponenti fondazioni sotterranee che potrebbero impedire la normale affluenza al mare delle falde acquifere con il rischio di provocare allagamenti su tutto il territorio. A fronte del progetto previsto da RFI, il Presidente inoltre è intervenuto anche sulla questione degli espropri. Il problema degli espropri è gravissimo, che non riguarda soltanto i cittadini di Marotta, ma riguardano anche il Comune, perché verranno espropriate delle aree del Comune dove sono previsti delle attività di sviluppo. I cittadini di Marotta che hanno le case lungo la ferrovia, in alcuni casi avranno proprio esproprio del terreno, in alcuni altri casi l'esproprio sarà temporaneo, non si può proprio parlare di esproprio, ma che durerà probabilmente 5-6 anni, con la messa in opera di apparecchiature di dimensioni enormi che è difficile capire anche come faranno ad accedere ai giardini di queste persone. Grazie. Grazie.